Buongiorno, buongiorno al vostro homeless. Guardate che spettacolo. Nulla, volevo dirvi delle cose ma non so come dirvele. Mi auguro che non succeda per certi aspetti perché sono da un certo punto. Comunque una cosa va detta, è un video un po' strano, però sto imbruttendo, ho 47 anni, l'età avanza, le girarci intorno, poi si sa sono storie, bisogna sempre raccontarsela un attimino, nel senso non è vero, invecchia tutti male, tutto il resto, ma insomma io sto invecchiando, mi sa molto male. Sto invecchiando male e questo me ne dispiace. I capelli a ora non ce ne sono, sovrappeso sono sovrappeso, non sono obeso perché non ci sono mai stato obeso, perché ero anche muscoloso. Per il resto stavo aspettando delle persone. Stavo aspettando delle persone per farmi una certa qualche compagnia, magari offrimi un caffè. Però queste persone si vanno troppo veloce, dicono che ancora non arrivano. Nulla, è un video strano, sono al solito posto, vediamo se riesco a fare il quadro in Margarina. Sto invecchiando, il tempo passa per tutti, quello bello è detto, passa per tutti. E io non me ne dispiace. A volte faccio fatica quando andavo allo specchio, cioè mi guardo tutti i giorni allo specchio, che è proprio una prassi, se si può dire così, però, insomma, è... Niente, sto aspettando della gente, ancora non vogliono arrivare. I denti per ora ce l'ho ancora, non si sa mai come va a finire. Niente, sono un po' sotto stress per certi aspetti, sempre per certi aspetti, perché, insomma, a volte non sono sotto stress, ma a volte sono sotto stress. Poi lo stress può derivare da tante cose, a volte sono le informazioni, se si può dire o no. A volte, insomma, non è che lo stress ci sia solo per il lavoro, cioè, intendiamoci. E c'è lo stress che ho speso troppi soldi in tutti i momenti, sono pochi soldi, vabbè, ho questo. Comunque sono in biblioteca lezzerine a Prato, quella nuova, c'è ancora quella vecchia. A Prato ci sono un tacco di biblioteche, però più o meno grandi, ma molte sono più piccole. No, non è ancora dito, perché sono leggermente più grandi, o comunque abbastanza grandi. Però, ora cambio un po' il discorso, perché sono in biblioteca, mi pare un'acqua della biblioteca. Però qui in centro ce ne è diverse. Ce n'è una in piazza San Domenico, credo si chiama, in piazza San Francesco. Poi ce n'è una di sicura al castello dell'imperatore, quella è sicura come la morte. In più, in più, ce n'è una qui che si chiama Lazzerini, quell'altra non so come si chiamava. Ora, ho fatto un video simile, ho dato un'informazione su un altro video del genere, ma non mi ricordo mi chiamava la vecchia biblioteca, ma non si chiamava Lazzerini, quella vecchia che è chiamata la vecchia biblioteca, ma c'è ancora, sempre là. Insomma, c'è centro-centro, perché se io ce ne sono tre, ma ci dovrebbe essere anche una quattro, ci dovrebbe essere, pensa un po' te. Quindi abbiamo quella al castello dell'imperatore, che è quella vecchia, abbastanza grande, c'è un monte di persone, è sempre piena di persone, proprio di carne, quella è tutta carne. Qui abbiamo questa valla di Lazzerini, c'è un po' via Vaiman, è pieno di persone qui a sedere, a studiare, insomma, a studiare, se no c'è qualche via Vaiman, chiedere qualche libretto prestito, c'è qualche computer, roba del genere. E poi c'è quella in Piazza San Francesco, che è una biblioteca un po' strana, perché c'è qualche libro in prestito, ma in realtà, a vista, se si può dire così, sono vecchi libri storici, solo vecchi libri, ma così, i volumi enormi, i vecchi libri storici. Magari, se posso, ci andrei a venire, ma non vorrei che ripartissi con le solite informazioni, diciamo, sempre soliti libri, insomma, spero che ogni tanto sia un libro. Allora, volevo dirvi Buon Natale, no, Buon Natale ancora è lontano, quindi non ve lo dico. Aspettate, c'è un po' lo scricchiolio, c'è un po' lo scricchiolio alla schiena, ma anche il problemino di schiena. Nulla, sono qui che sto aspettando della gente, non voglio arrivare. Sto aspettando, ora mi faccio offrire un caffè, se qualcuno me lo offre. Allora, vi faccio in quadro la reception, me la lavo, questa qui, questa qui è la reception, diciamo, c'è uno o due persone. Di solito, di solito, non è vero di solito, diciamo, ogni tanto gli viene il caffè e me lo me lo offrono, se dice, me lo danno, me lo offrono il caffè. Guardate le carine queste luci. E niente, dai, io vi saluto. Vi saluto, stavate bene. Io aspetto questa gente ancora non arrivare a me lo offre in caffè, a un certo punto, come si dice. Scusate, mi sto spucciando i baffi della barba che mi devo tagliare, voglio tagliare la barba e i capelli, crescere un po' velocemente. Ma sono fatti, mi sento fa circa. Vabbè, ti saluto per ora. State a me accorto da qui? No, statemi, statemi bene. E io aspetto sempre queste persone non arrivano.